Non entrare in quella casa e non andare a per cui si fa fa parte della trattativa cioè qualcuno dà in cambio nel stop all'estracci come si dice e poi qualcuno può essere valenzato lei sicuramente si metterà a ridere come tante altre persone ma state ascoltate la cronica le croniche via l'opera c'è stato un appuntato che dopo la restituzione la sera dice sono andati i carabinieri a fare la perquisizione nella casa di Rosario dopo non se ne parla più dopo questi venti anni, venticinque anni l'ha ripartito al tribunale dice io saputo che erano partite delle persone che hanno andato a fare la perquisizione non è racca e ma bene ma non è solo un matto beh Grazie a tutti.